Benvenuti carissimi amici miei e soprattutto buon anno. Questa è la prima puntata del 2024. Iniziamo subito col botto con un ringraziamento speciale a Daniele Borghi che ha fatto un regalo molto speciale anche a questo podcast, non solo a me. Si tratta di una cover per il microfono che uso abitualmente per registrare, che dà un aspetto decisamente molto più professionale a quello che uso normalmente, nonostante la qualità sia veramente ottima per quello che faccio e di questo ringrazio Matteo Scandolin per il consiglio che con una spesa contenuta mi ha fatto ottenere una qualità decisamente molto elevata ad un prezzo che definirei irrisorio e questo Matteo è stato veramente un grandissimo a consigliarmi questo microfono. Invece Daniele ci ha messo attorno una cover che la rende più professionale, più professionale nel senso che assomiglia davvero tantissimo a un microfono che costa almeno un ordine di grandezza in più. Di questa cover volevo fare i complimenti a Daniele per il lavoro decisamente professionale perché l'ha creato lui, progettato e stampato con una stampante 3D, ha messo a frutto i suoi anni di esperienza col CAD e questo qui è il risultato. Con accoppiamenti decisamente precisi, addirittura con delle scritte in negativo all'interno del microfono, con accoppiamenti veramente precisi, calza tutto quanto a pennello e ho dovuto soltanto montarlo e funziona alla grande. Davvero Daniele, un grazie di cuore per questo bellissimo pensiero che si è trasformato in qualcosa che mi accompagnerà davvero tantissimo all'interno di Snap e per tutte le registrazioni che faccio con la voce, praticamente tutto quello che faccio essenzialmente. E tra le altre cose è una bellissima dimostrazione delle capacità di Daniele dal punto di vista tecnico-professionale. Davvero complimenti di cuore per quello che sei riuscito a fare. Sono davvero orgoglioso di avere un oggetto fatto grazie al tuo impegno, alle tue capacità e alla tua tecnica. Davvero grazie, grazie, grazie. Con questo bellissimo regalo che ho trovato sotto l'albero di Natale, voi invece purtroppo, cari miei ascoltatori, non avete avuto il vostro regalo di Natale che volevo farvi, ovvero uno speciale che vi poteva tenere compagnia per queste vacanze natalizie. Perché non c'è stato questo speciale? Per il semplice fatto che c'è stato un incrocio di cose, tra cui la tanta stanchezza che mi sono portato dietro e sono riuscito a smaltire verso la fine delle vacanze e Dulcis in fondo, come si dice, sono stato anche non tanto bene. Si sentono ancora un po' i rifusi di questo raffreddore, sono ancora abbastanza tappato dal punto di vista del naso, ma anche della gola non si sta benissimo. Ma ciò, nonostante, sono ancora qui davanti ai microfoni. Mi spiace di non aver fatto questo speciale, probabilmente mi inventerò qualcos'altro. In questo 2024, che è iniziato anche con una puntata di A2, che conduco insieme all'amico Filippo Strozzi, che riguarda il tema dell'anno. Questa è la seconda parte dello speciale che abbiamo fatto. La prima riguardava essenzialmente il sunto del 2023, invece questa nuova puntata riguarda quello che vorremmo fare per il 2024. A proposito dell'anno 2023, volevo riallacciarmi a una mia passione, che immagino abbiate capito per chi mi segue soprattutto su Instagram, perché lì metto qualcosa che riguarda di più la mia vita personale, e tra le cose che faccio nella mia vita personale c'è anche questo passatempo, chiamiamolo così, che è ormai diventato quasi uno sport, anzi qualcosa di necessario, che è l'utilizzo della mountain bike per svagarmi e mantenermi un po' in esercizio. Quest'anno ho fatto 420 chilometri. In totale, direi in larghissima parte, in trail, che vuol dire nei sentieri che ci sono all'interno dei boschi, e sono molto soddisfatto. E questo qui è un dettaglio che non ho raccontato nella puntata di A2, e quindi lo condivido con voi, ma soprattutto è la base di partenza per quest'anno di riuscire a sfondare i 500 chilometri. Vediamo se riuscirò a fare questa impresa. So che qualcuno si sta già adoperando per farmela superare, e bene si sto parlando di te, Michele Bondanelli, perché mi vuoi sequestrare e portare a fare un giro in bici per le alte vette, e sicuramente io non ci arriverò perché non ho questa capacità tecnica e fisica che sicuramente tu avrai, ma spero nel passaggio di un trattore a cui mi posso aggrappare per farmi portare su. Visto che parliamo anche di Michele Bondanelli, volevo ringraziarlo anche perché mi ha fatto un bel po' di consulenza per quanto riguarda la mountain bike, non solo per l'acquisto, ma soprattutto in questo momento in cui ho praticamente la gomma posteriore, non dico ai minimi termini, ma insomma bisogna già iniziare a pensare a sostituirla. Non lo sapevo, c'è veramente un mondo per quanto riguarda le gomme di mountain bike, e Michele con grandissima pazienza mi ha svelato alcuni dettagli e trucchetti tecnici, di cui ovviamente non ero a conoscenza, ma grazie alla sua riconoscenza sono riuscito a trovare la gomma giusta che utilizzerò quest'anno. Purtroppo io sono della vecchia scuola, quindi finché non vedo le tele, tra virgolette non arriverò fino lì, però diciamo questo per farvi capire dove devo arrivare, poi penserò a cambiarla, ma intanto già sapere qual è la gomma che riuscirò a comprare e soprattutto a darmi non solo la marca e il modello giusto, ma anche pensare alla dimensione e anche dove acquistarla. Rimane un ultimo punto interrogativo, dove chiaramente non metterò mano io alla sostituzione della gomma, perché non ne sono assolutamente in grado, ma prima o poi mi dovrò occupare anche di quello di farlo io personalmente. Di una cosa di cui mi sono occupato però in queste vacanze è quello di sonomizzare il Mac. Ebbene sì, non gli ho fatto fare cose strane, ma in realtà ho solo fatto un upgrade al sistema operativo, all'ultima versione, sonoma, e devo dire che la procedura è andata liscissima, senza alcun tipo di problema. Posso dire dal canto mio che le prime impressioni che riguardano questo upgrade è che il Mac assomiglia sempre sempre di più all'esperienza che si può avere su un iPad dotato di tastiera e mouse. Davvero ci manca davvero pochissimo. L'unica cosa che cambia in effetti è la gestione del multitasking, ma in realtà con piccoli accorgimenti il Mac diventa veramente simile a un iPad. E non so se è un pro o se è un contro, ma è interessante questa convergenza continua sotto il cofano, diciamo così, di cui se non si presta attenzione non ci se ne accorge neanche tanto, ma in realtà se voi iniziate a vedere la doc, iniziate a far sparire il menu dalla parte alta della finestra, iniziate a usare Stage Manager, siete praticamente sulla stessa barca. Sto anche utilizzando la nuova possibilità data da Sonoma nell'utilizzo dei widget sul desktop. All'inizio non mi sono sembrati quella gran cosa, ma devo dire che nel corso del 2023 ho iniziato a usare i widget sia su iPhone che iPad e veder la possibilità di utilizzarlo anche su Mac francamente mi è piaciuta. Per adesso ne utilizzo solo due, che è Promemoria e Note, e questi widget sono finiti lì sullo schermo, non danno fastidio, sono sempre presenti, quindi sono richiamabili velocemente, senza grossi problemi, e questo mi ha permesso anche, tra l'altro, di togliere le due icone dei programmi che avevo all'interno della doc lasciandola sempre un po' più sminza. Mi piacerebbe vedere anche altre applicazioni, non solo quelle di sistema, che cercano di sfruttare questi widget. Vediamo se qualcuno si farà avanti, per adesso non ho visto grandi nomi che abbiano implementato la possibilità dei widget. Stiamo a vedere, praticamente siamo all'inizio, probabilmente vedremo qualcosa nel corso di quest'anno, ipotizzo. Anche se quest'anno credo che gran parte dell'attenzione sia indirizzata alla novità che ci stiamo aspettando tutti, almeno di chi ha una forte simpatia per Apple, riguarda i Vision Pro. Vision Pro che secondo me entreranno in modo trasversale in molti ambienti, anche non Apple. Questa è una mia personale visione, non perché sono, diciamo, fan Apple, ma per il semplice fatto che potrebbe essere una chiave di volta molto interessante. Questa chiave di volta che ho provato anche a indicare all'interno dell'articolo che ho scritto per il blog di Graphisoft Italia che in questo momento non è ancora pubblicato, ma che penso possa iniziare a dirvi anche qua all'interno di Snap che questo hardware potrebbe dare nuova linfa alla realtà mista, che prenderà, secondo me, una diversa strada rispetto a quella che abbiamo conosciuto fino ad oggi, perché penso che subirà un cambiamento. Questo è dovuto, secondo me, ai Vision Pro, perché non vorrei sbilanciarmi molto, ma penso che sia un progetto molto ambizioso di Apple con un obiettivo molto specifico, almeno quello che ha indicato Tim Cook all'interno del keynote di presentazione, ovvero di cambiare il personal computing. E se questo è vero e si realizzerà, sono certo che avrà ripercussioni a tutti i livelli, compreso il nostro nel mondo delle costruzioni e della progettazione. E a proposito di sviluppi tecnologici, io credo che questo discorso vada a braccetto con lo sviluppo del formato USD, che potrebbe essere veramente qualcosa di interessante, non solo per chi si occupa di 3D, con i Vision Pro e via discorrendo, e tutta quella fascia lì, ma soprattutto anche per chi lavora nel mondo delle costruzioni. Perché vi dico questo? Perché penso che il concetto e l'utilizzo del formato del file USD sia davvero interessante. Il formato USD è applicabile a qualsiasi contenuto 3D e vi ho già spiegato che è un formato di file molto leggero e performante. Però ha un problema per quanto riguarda il nostro mondo delle costruzioni che si sta evolvendo con il BIM, che non porta con sé i dati specifici del modello informativo. Immagino che chi lavori con il formato di file BIM, il CDE e compagnia cantante, abbia visto che alla lunga tutte queste informazioni diventano difficili da gestire e soprattutto hanno un peso dal punto di vista hardware. Proviamo un po' a evolvere il concetto dei dati e potremo affidare questi dati informativi a un formato di file. Il primo che mi è venuto in mente è il formato di file IFC, che può tra l'altro adottare tecniche di modellazione e serializzazione dei dati in modo da rendere la questione molto più leggera. Prendendo questi due formati di file, USD e IFC, possiamo iniziare a pensare che se agganciamo questi due formati di file al tema del BIM 2.0 e della progettazione attraverso browser, possiamo immaginare che il database del modello BIM possa essere sganciato dal software di BIM Outoring, rimanendo residente su un server, mentre la grafica del modello BIM possa passare tramite USD in streaming e in background alle applicazioni, che a questo punto possono essere web o addirittura mobile. E chi lo sa? Magari anche dentro a un visore. Penso che queste siano considerazioni tutte molto interessanti che ci accompagneranno nel 2024. Questa è una mia previsione, come vi dicevo. Mentre tornando alla chiusura dell'argomento della sonomizzazione del Mac, vi racconto questa, che secondo me è molto importante, soprattutto per chi ha la mia età e si sta avvicinando ad avere dei problemi con la miopia incalzante dovuta alla vecchiaia, all'interno di Sonoma c'è la possibilità di fare una modifica locale della grandezza dei font delle applicazioni. La prima che è entrata di getto all'interno di questa modifica nel mio computer è stato Mail, perché Mail ho sempre notato che ha un font molto piccolo e di difficile lettura, quindi spesso e sovente per riuscire a leggere correttamente la mail dovevo ingrandire lo schermo grazie allo zoom che permette il Mac. Aumentando semplicemente di un paio di punti il font in modo locale all'interno di Mail, questo è diventato come per magia subito leggibile e facilmente comprensibile senza farmi fare continui sforzi per riuscire a capire quello che c'è scritto all'interno della mail e anche a scriverla, ammetto. Quindi questo secondo me è uno di quei punti forti che c'è in Sonoma e che magari i più giovani non aspetteranno sicuramente, ma chi ha la mia età ringrazierà davvero tantissimo di poterlo utilizzare sui propri Mac e quindi fare meno fatica nel proprio utilizzo. Prima di iniziare la seconda parte di Snap vi ricordo che se vi piace questo podcast ditelo ad amici e colleghi in modo da diffondere il verbo e vi invito a lasciare qualche stellino al podcast che sono sempre ben gradite. Potete farlo sia su Apple Podcast che su Spotify, solo versione mobile e se volete anche scrivere due righe nella recensione il vostro contributo mi aiuterà a capire se sono nella giusta direzione e a far conoscere il podcast a più persone interessate gli stessi argomenti che ci piacciono. Infine, per non perdervi nessuna puntata, potete seguire Snap sulle vostre app dedicate all'ascolto dei podcast. Perché farlo? La domanda giusta è perché no? In questa seconda parte di Snap probabilmente sentite qualche differenza nella voce perché sto apportando qualche modifica al setup sotto i consigli di Daniele Borghi per quanto riguarda il microfono e vediamo se si sente o non si sente qualche differenza ma in ogni caso sicuramente qualche miglioramento tecnico grazie ai consigli ci sono di sicuro. Per iniziare bene l'anno non possiamo che iniziare a parlare dell'intelligenza artificiale. Secondo le previsioni entro il 2050 l'intelligenza artificiale sostituirà completamente gli umani nello svolgimento di alcune professioni. Tra queste pare che ci sia anche l'architetto. Questa notizia ha scaraventato nel panico non tanto gli architetti di oggi che tanto di arrivare al 2050 neanche ci pensano ma tutti i tredicenni che in questo momento sognano di fare gli architetti da grandi. A questi tredicenni che nel 2050 avranno quasi 40 anni quindi se tutto andrà bene saranno giovanissimi architetti possiamo dirgli di stare tranquilli perché ci sono almeno 10 motivi per ritenere che l'intelligenza artificiale non sostituirà l'architetto. Il primo punto riguarda la pazienza. Gli studiosi ci stanno lavorando ma difficilmente saranno in grado di dotare l'intelligenza artificiale della necessaria pazienza che occorre all'architetto per affrontare tutti i consigli non dovuti né tantomeno voluti che riceve quotidianamente. Per non parlare delle valutazioni delle soprintendenze si valuta che nonostante le migliorie e gli aggiornamenti la pazienza dell'intelligenza artificiale sottoposta a sollecitazioni di questo tipo possa resistere al massimo 4 minuti. Il secondo punto riguarda l'inarcassa l'ente previdenziale non permetterà mai che qualcosa non tassabile possa sostituire qualcuno disposto a versare annualmente ed in tre rate contributi per 40 anni in cambio di probabilmente niente. Terzo punto riguarda lo sportello telematico nessuna intelligenza artificiale sarà mai in grado di colloquiare con uno sportello telematico con tutte le sue eccezioni documenti in formato pdf barra firme digitali procure scansionate e via discorrendo cose che immagino che tutti gli architetti in ascolto abbiano dovuto affrontare a loro malgrado è possibile anzi che provandoci gli scienziati provochino un buco nero nella galassia cibernetica nel quale possa essere risucchiato l'intero sistema solare. Il quarto punto è imbrogliare una delle grandi sfide dell'intelligenza artificiale è imparare a barare gli sviluppatori ci stanno provando già da un po' ottenendo in verità già qualche risultato ma per imparare ad imbrogliare con un architetto che camuffa le mappe catastali giocando sul fuori scala 1-2.000 trasformandoli in 1-2.100 l'intelligenza artificiale avrebbe bisogno almeno di 400 anni o 5 anni di studio più 3 di fuoricorso e tirocinio in comune. Quinto punto i crediti formativi nessuna intelligenza artificiale si sottoporrebbe allo stilicidio della formazione professionale per un totale di 60 crediti ogni triennio li considererebbe un'offesa alla sua intelligenza per quanto artificiale specie quelli deontologici da questo motivo sarebbe espulsa dall'ordine il sesto punto guarda un po' riguarda appunto l'ordine per lo stesso motivo di cui al punto precedente l'intelligenza artificiale non si iscriverebbe mai ad un ordine anzi ne chiederebbe subito l'abolizione punto 7 l'interpretazione per quanto possa essere intelligente nessuno strumento artificiale sarebbe mai in grado di comprendere le sfumature delle leggi italiane in materia di urbanistica ed edilizia anzi proprio perché intelligente non potrebbe mai riuscirci solo l'architetto retrocedendo se necessario da homo sapiens ad homo habilis ovvero mettendosi a pari livello del legislatore è in grado di raggiungere l'adeguato grado di comprensione che gli consente di entrare nelle pieghe della normativa e se serve di aggirarla il punto 8 riguarda l'asservimento politico l'intelligenza artificiale non vota e non ha neanche cugini cognati o parenti vari che si presentano alle elezioni politiche e diventano assessori o sindaci quindi è difficile che possa entrare nel giro degli incarichi pubblici per affidamento diretto per questi ci sarà sempre bisogno di architetti proni ed elettori punto 9 riguarda le stories nessuna intelligenza artificiale nemmeno quella meno evoluta farebbe mai quelle stories o reels dove si vedono cantieri deserti con demolizioni in corsi accompagnati da frasi di spessore tipo inizia un nuovo viaggio oppure quanto mi piace il profumo della sfravecatura di prima mattina che oramai legittimano l'esistenza social quindi l'esistenza stessa di ogni architetto infine l'ultimo punto che riguarda l'interprete nessuna intelligenza artificiale sarà mai in grado di comprendere il dialetto di un carpentiere che dopo pranzo ti spiega perché secondo lui i ferri in armatura nella trave vanno messi nella parte compressa alternando la teoria ad una bestemmia e aneddoti d'esperienza ad un rutto che poi riuscire a decryptarlo non basta occorre anche convincerlo a cambiare idea per questa missione ci vuole solamente un architetto in conclusione l'intelligenza artificiale nel meno del 2050 a sostituire l'architetto e il tredicennio di qui sopra che vuole diventarlo può stare tranquillo e nel frattempo probabilmente anche cambiare idea spero che con questo articolo di inizio dell'anno vi abbia fatto un po' sorridere e soprattutto incominciare a dare delle risposte sensate del perché l'intelligenza artificiale non potrà sostituire l'architetto essenzialmente molti di questi punti li possiamo condividere allegramente tutti quanti anche se ci nascondiamo dietro a un sorriso che delle volte è più una paresi facciale quindi dopo aver iniziato l'anno prendendo in giro l'intelligenza artificiale sperando che in un futuro non troppo prossimo e lontano questa decida di vendicarsi probabilmente col sottoscritto andiamo a vedere visto che quest'anno è l'anno dei vision pro e quindi della realtà aumentata e tutto quello che si porta dietro le novità che invece ha indicato nell'autodesk university 2023 e in particolar modo l'autodesk workshop xr che cos'è questo nuovo aggeggio si tratta di una piattaforma per la collaborazione immersiva efficiente per i professionisti del mondo delle costruzioni questo sempre secondo autodesk che ha aggiunto per voce di nicola fonta direttore senior e direttore generale di xr presso autodesk aperte virgolette workshop xr trasformerà il modo in cui architetti ingegneri ed i li pianificano e rivedono i progetti la maggior parte dei progetti di costruzioni che superano il budget lo fanno perché i problemi vengono scoperti una volta iniziata la costruzione abbiamo sentito che molti clienti condividono le sfide della revisione dei progetti tra team dispersi chiuse virgolette entrambi team che in questo momento definiremo come BIM e VDC che sta per virtual design and construction possono rivedere e collaborare direttamente all'interno dei rispettivi modelli 3D per la costruzione e utilizzare tali modelli per revisioni e conferme immersive in corso ciò richiederebbe a tutti i partecipanti di avere accesso ai visori come ad esempio metaguest metaguest pro e metaguest 3 ma guarda un po' aggiungo io qui meta sta cercando di metterci lo zampino assieme ai suoi amici di autodesk e questo vi dovrebbe già dare un indizio di che tipo di ideologia c'è dietro a questa partnership ma escludiamo per un momento questa cosa e guardiamo il lato tecnologico probabilmente si sono dimenticati anche che questi visori in metaguest ma aggiungo anche in vision pro dovrebbero essere testati all'interno di un ambiente come quello del cantiere che proprio non è uguale a quello degli uffici che ci sono in quel di cupertino o dove il diavolo è la sede di autodesk o di meta giusto per dirvi io me lo immagino un visore sotto la pioggia oppure mentre stanno gettando il cemento armato oppure mentre stanno tagliando del ferro o addirittura stanno tagliando il cemento armato con gli utensili adatti potete immaginare che ci sia un polverone e mentre stiamo lì a guardare che tirano su sto polverone noi siamo lì col visore che si inzuperà di ogni tipo di polvere particellare che si andrà magari anche ad impastare con l'umidità ambientale quindi prima di fare tutti questi giochetti io probabilmente un giro in cantiere con uno di questi visori lo farei per verificare se in effetti quello che sia autodesk che meta stanno andando a proclamare sia effettivamente qualcosa che aderisce alla realtà del cantiere tornando in ogni caso all'aspetto tecnologico un aspetto chiave nel fare revisioni all'interno di ambienti immersivi è la relazione in scala 1-1 tra il personaggio e l'architettura o l'ambiente una cosa degna di nota con il workshop xr è che autodesk ha collaborato con meta di conseguenza la nuova piattaforma immersiva di autodesk funziona solo con le cuffie di meta e qua iniziamo a fare un bel applauso perché giusto per rimanere in ambito BIM e quindi open BIM abbiamo capito anche qua di che si tratta come si dice sempre autodesk perde il pelo ma non il vizio e i loro amici di meta per le parole di Jamie Keen direttore del prodotto di meta sentiamo dire queste parole aperte virgolette la collaborazione di meta con autodesk da vita alla nostra visione collettiva per il futuro del lavoro i visori meta guest e meta avatar offrono una connessione sicura a workshop xr che assumono una nuova dimensione di collaborazione e presenza questa esperienza immersiva trasforma il modo in cui i team lavorano aumentando la creatività ed espandendo la possibilità di ciò che può essere raggiunto chiuse virgolette la funzione chiave di autodesk workshop xr includono la possibilità di portare team di utenti nella stessa esperienza immersiva direttamente all'interno dei modelli BIM e 3D non è necessaria alcuna preparazione per interagire con i modelli già all'interno di autodesk construction cloud come parte di questa esperienza cloud hosted i team collaborativi hanno accesso ai dati del progetto memorizzati in autodesk construction cloud mentre vengono trasmessi in streaming in workshop xr non poteva mancare il commento di un gigante dell'azienda del mondo delle costruzioni come stantec che probabilmente usa autodesk che dichiara per parola di john metallucci aperte virgolette autodesk workshop xr ha aggiunto un valore incredibile al modo in cui collaboriamo i nostri dipendenti hanno sede inoltre 400 sedi e workshop xr ha riunito i team in uno spazio di lavoro realistico ed accessibile chiuse virgolette sempre metallucci osserva che riunire le persone in un ambiente di dati comuni il famoso cde aiuta a creare una risoluzione dei problemi più efficiente questo è comune a tutte le soluzioni del common data environment sia immersive che non immersive una cosa che può mettere una domanda sul successo di workshop xr è la piccola percentuale di professionisti del mondo delle costruzioni che possiede o hanno accesso a un visore immersivo senza considerare le problematiche di cui vi stavo parlando prima soprattutto se siamo in cantiere un'altra cosa di questo bel discorso è la sfida riguardo la presenza o la sua mancanza di hardware tradizionalmente i visori richiedono potenti gpu che non sono presenti nelle workstation cad e beam nelle aziende del mondo delle costruzioni e raramente si può lavorare con i computer portatili nei cantieri tutto questo probabilmente cambierà con le nuove generazioni di visori però rimane sempre la questione che il visore è altrettanto delicato come un computer secondo il mio punto di vista guardando al futuro l'industria del mondo delle costruzioni ancora un basso numero di visori attivi all'interno delle proprie aziende e la novità della realtà virtuale in particolare è svanita da tempo e l'intelligenza artificiale è davvero il tesoro tecnologico emergente del giorno tuttavia ciò che Autodesk sta tentando di fare con Workshop XR è incorporare queste tecnologie emergenti di lunga durata nei loro strumenti cloud per aiutare a guidare una maggiore adozione resta da vedere tuttavia se il vero driver dell'immersione proviene dallo spazio dei consumatori piuttosto che dallo spazio industriale con ad esempio i prossimi visori Vision Pro di Apple che verranno dati in pasto al mondo nel mese di febbraio e visto che stiamo parlando dei Vision Pro parliamo anche di una recente affermazione di Gurman che riguarda appunto il nuovo visore che potrebbe chiamarsi Reality One si tratta di un nuovo visore per la realtà immersiva che offrirà sia funzioni di realtà aumentata che di realtà virtuale il nuovo dispositivo forse chiamato Apple Reality One è il frutto di un team di mille persone presso Apple quindi Gurman afferma che Apple sta entrando in un mercato altamente competitivo già guidato da meta platforms ma adotterà un nuovo approccio alle riunioni virtuali e ai video immersivi mentre la società di Cupertino mira a squadre l'industria l'Apple Technology Development Group lavora all'uricolare da sette anni quindi in che modo Apple Reality One sarà diverso? vuole offrire uno straordinario sistema operativo progettato da Apple che si sente parte del suo ecosistema e che offre vantaggi rispetto ai rivali sui più livelli il Reality One avrà capacità avanzate di tracciamento degli occhi e delle mani e Gurman dice anche che sarà dotato di videoconferenze basate su FaceTime e sale riunioni virtuali Reality One sarà anche in grado di funzionare come monitor esterno per un computer Mac oltre a replicare numerose funzioni su iPhone ed iPad come il nuovo visore di Meta il Reality One funzionerà sia come dispositivo di realtà virtuale che di realtà aumentata con video pass-through consentendo all'utente di indossarlo e vedere il mondo reale che lo circonda i dispositivi di Varjo offrono già questa funzione e lo hanno da un po' di tempo ne abbiamo parlato spesso qui su Snap architettura imperfetta da questo punto di vista Apple e Meta stanno solo giocando a recuperare le funzioni che già oggi ha Varjo e anche la parola reality sembra un po' presa in prestito da reality cloud di Varjo è necessario notare però che l'Apple Reality One sarà caratterizzato da un digital crown come l'Apple Watch gli utenti ruoteranno la corona per passare dalla modalità di passaggio video di realtà virtuale a quella a realtà aumentata Gurman dice che la digital crown sarà un punto culminante del prodotto immaginiamo perché nel passaggio spostando la corona digitale il display di realtà virtuale svanirà e svanirà sulle immagini video pastrug del mondo reale tale funzione consentirebbe l'interazione diretta dell'utente tra le immagini di realtà virtuale e aumentata in modo altamente sincronizzato e in definitiva fornirebbe un tipo di potenziale divisore a raggi X per numerosi usi e funzioni andrebbe a beneficio di architetti e designer che progettano e modellano il mondo reale per non parlare di quello che costruiscono il mondo come appaltatori generali Gurman dice che i piani di Apple sono di rilasciare Reality One più avanti nel corso dell'anno e possibilmente annunciarlo già questa primavera Reality One non dovrebbe essere spedito in volumi di massa per un bel po' di tempo poiché Cupertino affronta questo mercato molto lentamente Gurman afferma che la visione di video immersivi sarà una caratteristica fondamentale del dispositivo e l'azienda sta apparentemente discutendo i piani di produzione di contenuti di realtà virtuale con aziende come Walt Disney e altre di questo calibro probabilmente ci possiamo aspettare un processore M2 oltre a una grafica dedicata e un chip XR chiamato Reality Processor tutto questo avrà un impatto nel mondo delle costruzioni ad oggi è troppo presto per capire che tipo di impatto può avere nel mercato del mondo delle costruzioni e del mercato in generale quello che sappiamo di Varjo è che il loro dispositivo era così sorprendente e capace che ha finito per essere un successo nei mercati di fascia alta come il mercato aerospaziale e la simulazione mentre è molto meno importante nel mondo delle costruzioni quindi quello che ha bisogno del mondo delle costruzioni è un dispositivo del mercato di massa e Apple sta già pensando a una seconda versione che sarà la metà del prezzo stimato dei 3.000 dollari di Realty One la caratteristica descritta da Gorman sul Apple Crown che svaniscono dentro e fuori dalle visualizzazioni della realtà virtuale ed aumentata sembra incredibili in termini di potenziale possiamo vedere immediatamente l'uso funzionale industriale di tale caratteristiche e ciò si applicerebbe fortemente alle industrie del mondo delle costruzioni e a numerose altre applicazioni in campi industriali quindi come avete capito in conclusione il 2024 sarà un anno molto interessante per quanto riguarda l'applicazione della realtà aumentata virtuale nel mondo delle costruzioni chiaramente cosa faremo? Staremo qua su Snap a commentare le evoluzioni e capire che direzione sta prendendo il mercato ma direi che per questa puntata è tutto e non mi rimane che darvi appuntamento alla prossima puntata di Snap Architettura Imperfetta vi ringrazio di cuore per aver dedicato il vostro tempo ad ascoltare questo podcast realizzato con supporto tecnico e morale di Alex Cuglia e Matteo Scandolin e che fa parte del network Runtum Radio la web Radio Geek ci sentiamo nella prossima puntata di Snap Architettura Imperfetta un podcast color grigio ciliegia Grazie a tutti